La strana coppia è cool, Enrico Guagli è cool, sanguola ora è più cool La strana coppia È arrivato il momento di dare spazio a una grande voce italiana conosciuta in tutto il mondo Il bel canto italiano è invidiato E qui non stiamo dicendo camorate ma è la realtà perché è una grande eccellenza italiana E ripeto non si riesce a capire come si è finito in questo, lo definisco il buco nero della strana coppia Signori il tenore Patrick Salati Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me Ciao Patrick Buongiorno Patrick Buongiorno ragazzi Ma cosa hai fatto di male tu per finire questa cosa hai fatto? Quali corpi hai? Sempre anch'io Bisogna andare un attimino a scavare nel passato chissà quale cosa Ma il karma, il karma Patrick Stamattina ce l'hai promesso qualcosa ispirato al carnevale Intanto sei vestito in maniera strana o sei in pigiama? No, sono vestito in maniera carnevalesca Ho una camicia molto madreperla Giusto per l'occasione per ricordare proprio Brasil Perché sarà il tema della canzone che andrò a interpretare Con un testo ragazzi che c'è veramente da ridere Ascoltate cosa ho scritto Non se l'avevo bevuto troppo, non lo so Spiegami, allora un tenore come te che canta delle arie d'opera meravigliose Stamattina ci canta Brasil Brasil, proprio per gli ascoltatori I nostri che ci seguono è il tenore Quindi ci dedichiamo a questo Diciamo che lui sta cercando di toccare il fondo con noi E poi dopo risalire Però prima che tu canti c'è una dedica Perché in questo momento è anche con le dediche Ci ha scritto addirittura Donald Che ci vuole usare come mezzo per dedicare una cosa agli Oscar Ah sì? Da Donald a Oscar Complimenti per la figure of shit Ecco, se lo facciamo la traduzione L'ha scritto in inglese C'è la risposta Da Oscar a Donald per noi sarà l'unica in un anno Ah aia, aia, aia Ok, puoi andare pure in dedica con la canzone, vai Il mappamondo visione senza musica Vai, per la cappella Brasil, i strani col tenore I augurano a tutti voi Buon carne vale insieme a noi Il terrore in spaccano vetri a lunedì Spaccano vetri a lunedì Poi Enrico e Sandro lì con voi Insieme al terrore in Brasil, 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 brasil Bravo, 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 bravo Lui ci salta fuori in tutte le situazioni Però, devo chiedere una cosa C'erano le maracas Quello che sentivamo sotto Erano le maracas E' una maracas artigianale Fatta con dei caffè Strepitosa Grazie Patrici Buona giornata Ciao Ciao Buona giornata ragazzi Strana coppia Strana coppia Strana coppia